Ciao a tutti, bentornati sul canale, oggi un video super atteso, anzi attesissimo direi, è il video sui miei rossetti MAC, un video che mi avete richiesto in tantissime, anche da un bel po' di tempo, mi ero ripromessa di girarlo quanto prima, però volevo arrivare al numero minimo di rossetti, sono arrivata al mio numero minimo che mi ero prefissata, ossia 10 rossetti, sapete quanto io amo i rossetti MAC, ovviamente chi non li ama, chi è appassionata di make up, chi ama appunto questo mondo di rossetti, insomma in generale, ama i rossetti MAC, non può non amare i rossetti MAC, sapete benissimo per chi non lo sapesse, lo dico io, ve lo dico io, ci sono diversi finish e anche diverse tipologie di rossetti, i finish ovviamente si differenziano in base alla durata, al risultato che si vuole ottenere, all'effetto che si vuole avere appunto da un rossetto e via dicendo. I finish sono appunto diversi, io non li ho tutti, ce ne sono un bel po', ci sono tipo i glaze che io non ho, i laster che io non ho, io ho gli amplified, i saten, i matte, i retromatte e poi ho una versione, un'altra tipologia appunto di rossetto, non la classica appunto, la capsula appunto, tipo questa qui, classica, ma di un'altra tipologia che me ne parlerò dopo. Allora, partiamo dagli amplified, vi mostro il primo amplified che ho, che sarebbe il chatterbox, che è questo color rosa molto molto bello, rosa, non dico confetto, ma rosa acceso, rosa intenso, molto molto bello, questo qui devo dire la verità, è tra i rossetti MAC che io utilizzo meno, perché d'inverno non lo utilizzo quasi per niente, perché non mi piace come sta con la mia carnagione molto chiara, non mi fa impazzire. D'estate, dalla primavera in poi, con un po' di abbronzatura, mi piace tantissimo, lo utilizzo tantissimo. Per quanto riguarda appunto il finish, le amplified, le amplified hanno un, tendenzialmente, sono rossetti tendenzialmente cremosi, ma comunque con una pigmentazione molto alta, una confrotevolezza abbastanza alta, hanno una durata medio alta, non altissima, media diciamo, perché essendo cremosi tendono comunque chiaramente a resistere meno rispetto a un rossetto saten o un rossetto matte, ma devo dire che comunque hanno una buona durata, sono molto pigmentati, comunque il rossetto rimane sulle labbra, anche se provate a toglierlo, comunque il colore tende a rimanere. E questo qui appunto è Chatterbox. Altro amplified craving, che è questo color bellissimo, è un color, diciamo, malva, questa gamma colore malva, rosa, è tra i miei rossetti preferiti, l'avete capito, perché mi segue, io adoro i malva, i nude, questa tipologia di colore qui. Stessa cosa vale per il craving, quindi amplified, molto cremoso. Devo dire però che secondo me dura anche più del Chatterbox, perché essendo un po' più scuro, diciamo, si attacca appunto le labbra e anche dopo un bel po' di ore, se comunque va via, rimane comunque la patina di colore sulle labbra, che è davvero bello. Il colore è bellissimo, mi fa impazzire, lo adoro. Mi piace anche appunto la durata, mi piace il colore, mi piace come mi sta, è davvero bello questo malva. Questo malva ne è troppo chiaro, ne è troppo scuro, ne è troppo smorto, ecco, mi piace moltissimo. Come amplified sono tutti quelli che ho, quindi sono solamente due. Passiamo alla linea saten. Come saten vi mostro il primo saten che ho acquistato ed è il Rebel. Rebel è uno dei più famosi, tra i più famosi rossetti di MAC. Per quanto riguarda appunto i saten hanno un effetto un po' diverso. Allora i saten sono il finish che io preferisco, insieme a quelli matte, perché hanno sì una cremosità non molto alta, non sono troppo secchi, non sono cremosi ecco, ma sono comunque, si infissano sulle labbra quasi come fossero matte, ma non sono secchi, hanno un effetto non velluto come matte, ma quasi, sono leggermente lucidi, però ha un effetto davvero bellissimo. Questo qui sembra quasi un matte, ma in realtà non lo è. Si vede la differenza tra questo e un booby hook, è davvero molto molto opaco. Questo qui è leggermente più lucido ed è bellissimo. Io adoro Rebel. Per l'inverno è un colore stupendo. Lo consiglio davvero a tutte. Se amate questi colori un po' sul violaceo, un po' più scuri, un po' più intensi, stupendo. Altro saten, l'ultimo rossetto di MAC che ho acquistato, è Captive, che è questo qui è molto simile a Craving, però questo qui è leggermente, mi faccio vedere la comparazione tra Craving e Captive. Come vedete questo qui è Craving, Craving è un po' più chiaro, questo qui invece è un po' più scuro, tendente più a violaceo ed è stupendo, è davvero bellissimo. Questo qui lo preferisco anche a Craving proprio perché è il saten, mi piace di più come finish ed è un colore molto bello, un malva un po' più scuro, un po' più intenso. Trovo che mi stia anche molto bene con la mia carnagione. Bellissimo, è una bellissima punta di malva. Questi due punti sono i saten. Passiamo ai matt. Per quanto riguarda i matt, penso non ci sia molto da dire. Il matt ha un effetto opaco. che si fissa sulle labbra, durata altissima. Anche per quanto riguarda i saten ha una durata davvero molto molto alta. È matt, non c'è nulla da dire. Sono davvero molto molto duraturi. Effetto appunto opaco, velluto, bellissimo. Uno tra i miei preferiti è Diva. Diva è questo bordeaux bellissimo, elegantissimo, non va via neanche con le cannonate. È davvero un bellissimo colore molto elegante, molto sofisticato. D'estate non l'utilizzo. D'inverno è meraviglioso. Trovo che con la bronzzatura secondo me sta anche, non sta molto bene. Troppo troppo scuro. Invece con la carnagione un po' più chiara trovo che sia davvero molto 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 bene. Altro rossetto matt è Mer. Mer è il mio rossetto MAC preferito. Lo vedete anche dallo stick perché è quasi terminato. È il mio rossetto in assoluto di MAC preferito. Perché come sapete io amando i nude rosati, malva, diciamo sul malva. Questo qui è il mio preferito perché lo indosso quasi ogni giorno. Mi dispiace anche perché sta terminando. Non voglio terminarlo. Ed è stupendo. Essendo un matt ha una durata molto molto alta. Non è molto secco come Ruby Woo. Io faccio sempre il paragone con il Ruby Woo perché è il più secco in assoluto dei rossetti di MAC. E invece questo qui non è molto molto secco. C'è appunto c'è di peggio. Però appunto ha una durata molto alta. Ha un colore bellissimo. È questo malva molto non molto scuro sul rosato. È davvero molto bello. Se volete, se cercate un rossetto di MAC nude rosato, malva, andate su Mer. Bellissimo. E se amate soprattutto i matt, andate su di lui. Non vi sbagliate. È stra 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 consigliato. Altro rossetto matt è il famosissimo Ruby Woo. Ruby Woo è penso il più famoso in assoluto tra i rossetti di MAC. Questo rosso intenso. Questo qui però è molto più secco anche di Diva. Infatti il Ruby Woo io lo utilizzo con una base, con un primer, il primer di MAC. Con il primer non ho alcun problema. Si stende benissimo, non fa fatica. Senza primer faccio quasi fatica a stenderlo. È quasi impossibile da spendere. Secca chiaramente un po' di più rispetto a Diva. Infatti dopo un po' di ore ho ripassato un burro cacao o comunque anche lo stesso primer. Bellissimo colore rosso, accesissimo, bellissimo. Quando lo indosso spesso mi hanno chiesto quale rossetto portassi. Ed è il famosissimo Ruby Woo. Il rosso per eccellenza. Altro matt bellissimo. Anzi questo qui è un retro matt. I retro matt sono anche più matt dei matt. Quindi ha anche più secchi. Ma in realtà questo qui che è l'All Fire It Up, che è questo fragola stupendo, questo fucsia fragola meraviglioso. Questo qui è anche molto secco. Anche questo qui va steso con un primer. Però lo trovo molto simile a Ruby Woo. Nonostante Ruby Woo non sia un retro matt ma un matt. L'effetto è sempre lo stesso. Effetto velluto. Si fissa sul labbra, non va più via. Durata altissima. Il colore è meraviglioso. Lo utilizzo sia d'estate che d'inverno. Perché trovo che sia con la bronzatura mi stia molto bene che anche senza appunto non abbronzata. Quindi d'inverno lo utilizzo. Davvero molto 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 bello. Altro rossetto è di un'edizione limitata. È anche questo qui un matt. Ed è in questo rossetto che si chiama Eugenie. Che è di questa edizione limitata di Gian Battista Valle. riuscita l'anno scorso o qualche mese fa. Anzi no. Dopo l'estate. Settembre credo. Che è questo bordeaux intensissimo. Molto più scuro di Diva. Diva è più sul Borgogna. Questo qui è un po' più sul violaceo. Sono molto simili. Ma in realtà si nota la differenza. La punta di colore è un po' diversa. Questo qui appunto è più sul viola. Rubi Diva è più sul Borgogna mattone. È molto bello. Non è portabilissimo. Di giorno è troppo. Però è davvero un bellissimo colore. non tutte può piacere. A me piace molto. L'ho messo poco. Proprio perché non è portabilissimo. Però è davvero molto molto bello. L'ho guardata altissima. Devo dire la verità. Essendo un matt forse è il meno secco di quelli che ho. Perché sembra quasi un saten. Si fissa bene ma non secca eccessivamente. Molto molto bello. Il packaging è davvero molto molto bello. Non lo trovate più perché ovviamente essendo un'edizione limitata non lo trovate. Però è davvero molto molto bello. Ultimo rossetto di cui voglio parlarvi. È un rossetto diverso dagli altri. Non è il classico. È questo qui. In questa versione diciamo non ha proiettile come gli altri. Ed è un prolonger. Cioè prolonger allora dovrebbe avere una durata più... che è quello che indosso adesso. Dovrebbe avere una durata più alta rispetto ai classici. Questo qui costa leggermente di più. I classici costano 19 euro. Questo qui l'ho pagato sui 21-22 euro. Qualcosa. E questo color rosso è molto particolare. Rosso mischiato a fucsia. Molto molto particolare. Non ho nessun rossetto di questo colore. È molto molto bello. È diverso rispetto agli altri perché somiglia molto esaten. Ma in realtà è molto più cremoso. Ma non è cremoso. Ecco si fissa così bene sulle labbra che non lo percepite neanche. Inizialmente si ha una sensazione di appiccicaticcio dopo due minuti che lo applicate. Dopodiché non lo sentite più. Dura davvero tantissime ore. È uno dei rossetti che mi dura più in assoluto. Ha una facilità nello stendersi pazzesca. Rispetto al Ruby Woo che fa quasi fatica. Non si stende facilmente. Questo qui scivola che è una meraviglia. Ed è davvero bellissimo. Il colore è molto bello. Non ve l'ho detto. Ed è il Perpetual Flame. Appunto questo color rosso fucsia molto 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 bello. Molto particolare come colore. Nulla. Questi qui erano tutti i miei rossetti MAC. Finalmente sono riuscita a girare questo famigerato video. Spero che questo video vi sia risultato utile. Spero di avervi fatto vedere al meglio il colore di questi rossetti. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!